La giunta che ho formato è la seguente con le seguenti deleghe. Allora, Vice Sindaco Gianfrancesco Gamurrini con le seguenti deleghe. Opere pubbliche, manutenzione, politica delle frazioni, mobilità e traffico, finanziamenti UE, Unione Europea e per sua espressa richiesta, visto che ne è profondo conoscitore e lo ama sinceramente, Giostra del Saracino. Lui è citato per primo perché ha la delega di Vice Sindaco, gli altri sono in ordine strettamente alfabetico. Marcello Comanducci, attività produttive, comparto orafo, fiera antiquaria, turismo e grandi eventi, innovazione tecnologica e semplificazione burocratica. Deleghe pesanti, in Capo Marcello. Barbara Magi, sicurezza, immigrazione e politica dell'integrazione, protezione civile, personale. Poi mi fermerò sul profilo professionale di ciascuno di loro. Alberto Merelli, finanze, bilancio, tributi, società partecipate e rapporti con l'Università. Tiziana Nisini, pari opportunità, provveditorato e patrimonio, politiche della casa. Marco Sacchetti, interventi strategici, ambiente, ciclo dei rifiuti, ciclo delle acque. Lucia Tanti, politiche sociali, famiglia, scuola, politiche giovanili e sport. Sport? Sport. Ah, non vi ho detto le delega del Sindaco, nessuno me le chiedeva. Le ho detto le delega del Sindaco. Beh, no, se avete seguito quello che ho detto ve ne manca sicuramente una, perché il Sindaco si prende gli affari istituzionali, gli affari legali, la stampa informazione, le politiche sanitarie, la polizia municipale, fin qui sapevate tutto, l'urbanistica, e se avete fatto i conti ve ne manca una. Mi tengo la cultura, mi tengo la cultura.